Nella Domenica del Buon Pastore, Papa Francesco e Regina Celi in Piazza San Pietro ha ricordato che Cristo è la porta della salvezza dell'umanità perché ha offerto la vita per le sue pecore. È il capo di cui fidarsi, di cui si conosce la voce, che è presenza amica, forte e dolce insieme, che indirizza, protegge, consola e medica. Spesso, ha ricordato, si dimentica nell'esperienza cristiana la dimensione spirituale e affettiva, si razionalizza la fede e si rischia di dimenticare la voce di Gesù. Una voce che i nuovi sacerdoti, appena ordinati, buoni pastori, ha auspicato il Papa, sono chiamati a seguire con prontezza e generosità. È la meravigliosa esperienza di sentirsi amati da Gesù. Fatevi la domanda. Io mi sento amato da Gesù? Io mi sento amato da Gesù? Per Lui non siamo mai degli estranei, ma amici e fratelli. Eppure non è sempre facile distinguere la voce del pastore buono. State attenti. C'è sempre il rischio di essere distrati dal frastuono di tante altre voce. Oggi siamo invitati a non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo mondo, ma a seguire Gesù, il Risorto, come unica guida sicura che dà senso alla nostra vita. Al termine di Regina Celli, il Papa ha salutato l'Associazione Mater, che da oltre 20 anni contrasta ogni forma di abuso sui minori, esortando ad andare avanti con coraggio. Poi ha ricordato la prossima recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei ed è invitato a pregare il Rosario per la pace in questo mese di maggio, come chiesto dalla Vergine di Fatima, dove prossimamente si recherà in pellegrinaggio. Grazie a tutti.